304 casi su 15.321 tamponi processati, tasso di positività all'1,98%. Questo è il dato emerso dal bollettino epidemiologico del 28 agosto. I casi emersi dal report precedente erano stati 302 su 13.258 test con positività al 2,27%. Il totale dei contagi dal coronavirus registrati in Puglia sale a 263.031, uno di cui 4.646 attualmente positivi, 251.683 guariti e 6.702 deceduti. Uno è il decesso registrato nelle ultime 24 ore, 50 sono i casi attivi in più rispetto a ieri, 253 sono i nuovi guariti. Salgono da 235 a 238 i pazienti ricoverati in area non critica, restano 22 le terapie intensive. Su scala provinciale il dato più alto di giornata è rappresentato dai 77 nuovi casi emersi nel Barese. 97.221 è il totale dei pazienti registrati nell'area del capoluogo di regione da inizio pandemia. 68 sono i nuovi positivi emersi nell'eccese, 29.497 è il dato complessivo dell'area salentina. Numeri simili nel Foggiano e nella Bat-zone, nelle quali sono stati registrati rispettivamente 51 e 45 nuovi contagi. 46.404 è il totale della capitanata, 27.333 quello della provincia di Barletta-Andreatrani. 35 sono i nuovi positivi emersi nel Brindisino, un dato che porta il totale a 20.831. 20 sono infine i nuovi casi registrati nel Tarantino, 40.344 è il dato complessivo della zona ionica. A chiudere il quadro, 9 residenti fuori regione. 3.234.481 è il totale dei tamponi processati in Puglia da inizio pandemia. 3.234.481 è il totale dei tamponi processati in Puglia.